stando all'ex lottatore e dirigente sergent slaughter la wwe ha iniziato a scrivere nei dettagli i promo dei wrestler quando cn punk durante la sua permanenza nella federazione ha cominciato a infarcire i suoi discorsi di parolacce sgradite ai piani alti dell'azienda vince mcmahon per non perdere sponsor e appetibilità televisiva avrebbe dunque fatto ricorso a questo espediente limitando quasi del tutto la libertà creativa oratoria dei suoi wrestler a detta del wrestling observer gable steveson sta facendo passi da gigante durante i suoi allenamenti e quando debutterà ufficialmente in wwe lascerà tutti di stucco per le sue capacità tecniche e atletiche arnenderson ha rivelato che molti anni fa vince mcmahon si trovò a dover decidere chi lanciare come numero uno della federazione finendo con tre nomi in ballottaggio randy horton batista e john cena alla fine la scelta ricadde su quest'ultimo con anderson che gli venne affiancato come dirigente al fine di istruirlo al meglio sul come lottare parlare e affrontare la disciplina occupando al meglio quel ruolo notizia rumor in due parti nella prima ci viene detto che triple h non desidera che a vincere la valigetta del money in the bank sia logan paul e che nel backstage sono in corso delle serrate discussioni in merito ad una possibile rivalità tra la star dei social e delay night rinside news smentisce però la cosa aggiungendo che si tratta di voci di corridoio fasulle e che la wwe ha comunque già stabilito chi trionferà nella sfida da diverse settimane senza alcuna animosità interna in una recente intervista la campionessa di nxt tiffany stratton ha rivelato come il sostegno e gli allenamenti del suo fidanzato ludwig kaiser siano stati fondamentali per farle migliorare sia lo stile di lotta che la propria presenza nel ring non solo con lui ha perfezionato il moonsault con cui spesso chiude i match ispirandosi a quello storicamente eseguito nello stesso modo da christopher daniels questa scena è fantastica e arriva da un live event della wwe damian priest ha perso il match è stanco è ferito allora dominic prova a trasportarlo nel backstage ma inciampa e cade all'indietro perché gli mancano i muscoli e allora ecco qua c'è la mami ria replay che risolve i problemi l'infermeria se c'è lei che ti trasporta non è mai distante ma io direi che merita una seconda passata perché è troppo comica la cosa guardate dominic no che non riesce a tenere su nemmeno i pesi della chicco che si affloscia tu gli metteresti la tua salute nelle sue mani beh direi proprio di no e allora ecco qua chi ci sa fare vieni damien ci pensa lei ria replay a portarti in salvo carmelo ace ha invitato il futuro vincitore della valigetta del money in the bank ad incassarla contro di lui per il titolo di campione di nxt vi piacerebbe vedere uno scenario del genere fatemelo sapere nei commenti stando a fightful negli ultimi mesi la wwe è diventata meno severa in merito ai progetti paralleli al wrestling avviati dalle sue star tuttavia ognuno di essi deve essere ancora approvato dalla federazione che prima del via libera intende sempre verificare che non ci siano problematiche tali da negarlo cody rhodes ha rivelato di aver frequentato la stessa high school di xavier woods entrambi praticavano wrestling amatoriale nella squadra del plesso ma in categorie di peso diverse una volta si sono comunque sfidati e stando all'american nightmare lo score finale lo avrebbe visto prevalere per una manciata di punti non solo cody avrebbe pure rubato le attenzioni di una ragazza con la quale woods usciva sostituendosi a lui come fidanzatino del momento stando a pw insider al momento tutto tace sul ritorno in azione di drew mckintyre e chissà magari è una strategia per riproporlo a sorpresa senza le aspettative anticipate dal web in quanto a randy horton oggi i rumor riferiscono che non sarà a money in the bank e che tutto quello che si legge su di lui sono clickbait che è un po quello che vi dico da qualche mese